Benvenuti a Napoli, Stadio San Paolo, questo è Napoli-Santo, il cielo è sempre più blu, un saluto da Piero Cipardo e Ruggeri Sitelli Cassano e Ziegler dalle parti del pallone, Cassano che avviene da due gol nelle ultime due gare contro Livorno e Palermo la battura sul secondo palo, questa è la sfonda e poi Seignoli Cannavaro la caccia del pallone, Mannini dalle sue parti, pazienza per un altro cross, palla dentro a cercare Quagliarella, poi Denis Denis Gargano, giocata verticale, posizione regolare, Castellazzi in salvataggio, Denis, ancora Denis, può provare a girarsi C'è Ziegler in su di lui, prova Amsic, palla ribattuta, Ronica sinistro, posizione irregolare non ci sono grandi dubbi da parte di maggio, grandissima occasione per il Napoli Palla buona per Quagliarella, Quagliarella sinistro, che finisce alto Ancora pazienza Cercare dentro Denis, riesce a toccare Gastaldello, poi palla buona, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco Fermato Denis, questo è il momento Non è facile, non è facile Attenzione al movimento al dentro, palla verso Cassano, poi c'è invece sul secondo palo Poli che si stava inserendo Palla per Gargano, che ribalta, è una grande idea verso Ronica Attenzione al palone dentro su Denis, sta arrivando Maggio Che si divora, il gol dell'1-0 Ecco Cannavaro, trova un altro rimorchio buono da parte di Gargano, la giocata sul maggio Poi anche Amsic, ma alla fine è Maggio che ha tirato, il Fiorillo che gli ha detto di no Campagnaro Si fa vedere Amsic, la battuta è più profonda, però dentro, deviazione, 1-0 Napoli Denis, 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 1-0 Si, grande, grande gol e grande coraggio, anche perché non riuscì di Fiorillo a vuoto Non era facile metterci la testa, lui c'è andato con convinzione e cattivare e l'ha messa dentro, bravo Eccolo Palombo su Cassano, in mezzo a due Cassano, lo scambio con Pozzi, magia Cassano E la risposta in due tempi, Dine Santi Trova Palombo Parte Palombo col destro Palla che esce di pochissimo Cassano, la giocata di prima, occhio alla sfonda, Poli, Poli Fuori di poco questo destro Eccolo qui Il Napoli ha vinto 12esimo risultato utile consecutivo Terzo posto in classifica, almeno per qualche ora Niente male Inizio abbiamo fatto un po' di fatica Loro no, sono una ultima squadra Però dopo siamo rimesso velocemente con l'importante Dobbiamo continuare per questa strada che stiamo benissimo